I dati che sono usciti sono abbastanza impietosi e danno chiarezza delle disuguaglianze che si sono confermate con questa pandemia, che già lo erano prima della pandemia. Si parla appunto dell'8% della popolazione che possiede l'80% della ricchezza e addirittura che l'80% della popolazione possiede solo il 7% della ricchezza. Con Rise Up for Climate Change, la conferenza che ci ha preceduto, è stato detto che addirittura il 10% dell'approvazione mondiale è responsabile del 50% delle emissioni. Quindi voglio dire che la situazione è sotto gli occhi di tutti, ma oltre alle disuguaglianze e alla crisi climatica che stiamo vivendo, ci sono anche altri mondi possibili. Infatti lo slogan e comunque le parole che sono state dette da Vittorio Agnoletto, cioè che questo 7% sono la malattia, mentre l'80% della popolazione è la cura, oppure l'urlo di Monica, di Sisto, di dire insorgiamo perché veramente il tempo a nostra disposizione è veramente poco per invertire la rotta. Ringraziamo chiaramente sia Cristina Morini che è qui accanto a noi e che poi la introdurrò in maniera più approfondita quando gli passerò la parola. E chiaramente è Raul Ziberchi che ci ascolta ed è in diretta da Montevideo. Lo ringraziamo e poi lo introdurrò anche lui in maniera più opportuna. Diciamo che gli altri mondi possibili, che è stata un po' la richiesta, quasi una domanda, quali altri mondi possibili ci sono. In realtà gli altri mondi già sono intorno a noi, già li stiamo praticando. Per esempio ci sarà una importante manifestazione a Firenze, il 18 per GKN, a cui probabilmente una delegazione del festival sarà presente in sostegno dei lavoratori che saranno senza lavoro per la chiusura della fabbrica. C'è anche nello stesso giorno una manifestazione, la Marcia per la Terra, che è stata organizzata da Mondeggi contro il G20 sull'agricoltura a Firenze. Poi ci sarà anche il 25 di questo mese, donne in piazza, proprio per in qualche modo manifestare i diritti delle donne, ma non solo, contro il patriarcato e contro il sistema economico che ha visto scaricare sulle donne la maggior parte dei aspetti negativi della pandemia. Oltre alle manifestazioni, che sono più delle rivendicazioni sociali, durante la pandemia ci sono stati anche degli atti di mutuo aiuto, che sono stati importantissimi, quindi ci sono dei mondi altri che già esistono. Mi riferisco per esempio alle organizzazioni che hanno portato aiuto in maniera volontaristica alle persone più fragili, più bisognose, le persone anziane, le persone che non potevano chiaramente accedere addirittura agli alimenti. E importantissimo sarà quindi anche la testimonianza e l'analisi di Raul Zibeschi, proprio perché ci porterà la sua analisi di quanto l'America Latina sia stata colpita dalla pandemia, ma quali siano state le risposte dei propri indigeni, delle comunità contadine e anche delle organizzazioni femministe in quei paesi. Io invito Francesca Caprini a leggere una piccola introduzione del libro di Raul Zibeschi che noi abbiamo curato e tradotto, che si chiama Tempi di Collasso e Popoli in Movimento, che proprio parla di questi temi, cioè della pandemia e di come i popoli indigeni hanno risposto alle pratiche autoritarie dei governi per contenere la diffusione del Covid-19. Va bene, buonasera a tutti e a tutti, buon pomeriggio. Da Tempi di Collasso, Popoli in Movimento, appunto per Nova Delfia editrice, leggiamo un brano che Raul ha voluto riportare nell'introduzione di un intellettuale messicano, Francisco López Bárcenas, intellettuale indigeno, no? Una forma di mobilitazione poco visibile perché proprio dei popoli è quella che realizzano all'interno di loro stessi. Alcune volte la rendono manifesta, altre volte no, in base alla sacralità e alla spiritualità che racchiude e ai propositi che ci propone di raggiungere attraverso di essa. Per poterla realizzare chiedono aiuto alle proprie guide spirituali che ricorrono ai loro poteri e abilità per ristabilire l'armonia fra gli uomini di questo tempo e quelli del passato, così come fra le società e le sue divinità. Grazie alla loro guida i popoli percorrono i loro luoghi sacri, fanno offerte alla divinità, chiedono perdono per non aver adempiuto agli obblighi nei confronti della natura e per aver permesso che essa fosse aggredita dall'esterno. E così, cosa più importante, confermano il loro impegno a ricucire le relazioni con gli antenati, le divinità, la natura. Così facendo recuperano le forme di lotta che gli sono proprie e le mettono in movimento per organizzare la resistenza a modo loro. Poiché molti non vedono questa resistenza, oppur vedendola, non la capiscono. Pensano che i popoli non si mobilitino quando in realtà si tratta per loro della mobilitazione più significativa, perché a partire da essa costruiscono la propria autonomia. Francisco López Bárcenas Sì, questo è tratto dal libro di Raúl Zibieci, lui è uno intellettuale messicano, che è stato riportato da Raúl proprio in questo libro, Tempi di collasso dei popoli in movimento, che è uscito proprio quest'anno. Ringraziamo quindi Raúl, che probabilmente quasi tutti lo conoscono, è un analista, scrittore, giornalista, ha pubblicato numerosi libri, tra cui Mondialtri in movimento, che tra l'altro è stato presentato qua nel 2018, proprio con la presenza di Raúl Zibieci. Poi ha scritto altri libri, tra cui Zapatisti, SM Terra, Zero in condotta, Disperdere il potere, Le comunità di Mara oltro Stato Boliviano, prodotto da carta quando ancora esisteva, collabora con numerosi quotidiani, tra cui Comune Info, che magari conoscete qua in Italia, ha pubblicato numerosi articoli proprio sulla pandemia, e collabora anche con Disinformemonos, che è un blog molto vicino alle comunità zapatiste, che tra l'altro, tra un paio di giorni, arriveranno in massa a Vienna, quando una delegazione è già arrivata un paio di mesi fa, già in Portogallo. Doveva essere con noi, ma per una serie di motivi non è potuto venire, magari lo avremo qui nella prossima edizione dell'OEF, che probabilmente faremo alla fine di maggio e giugno, come è stato sempre, diciamo che l'edizione di quest'anno è stata una scommessa, direi vinta, e quindi lascerei la paura proprio a Raul, che ci parlerà, diciamo facendo anche riferimento a questo libro, che trovate là in vendita, per chi lo volesse, inquadrando un po' l'aspetto, diciamo, gli effetti della pandemia a livello globale, ma soprattutto parlando dei, diciamo, i luoghi che lui conosce meglio, che sono quelli dell'America Latina. Prego Raul. Ciao a tutti e tutte, grazie per avermi invitato al Festival dell'Oltreconomia, a Enzo e a Francesca. Durante la pandemia stiamo vivendo lotte collettive molto importanti in America Latina. Si vede? Sì, sì, si vede. Bene. Uno di questi, di questa lotta, sta accadendo proprio ora in Brasile. più di 6.000 indigeni amazzonici sono accampati da diverse settimane a Brasile, dove il Parlamento sta discutendo una legge, Marco Legal, il nome, che può impedire la continuità delle terre indigene, deciso, è una parte della Costituzione. fanno parte di 176 popoli che chiedono rispetto per i loro territori che vengono attaccati dalle guardie private delle compagnie minerarie e agroalimentari. Questa è un'aggressione permanente ai popoli indigene e ai terri indigeni. Il campo per la vita è stato installato dall'articolazione dei popoli indigeni del Brasile che in una settimana ha bloccato 43 strade in tutto il paese. Una dichiarazione del movimento si intitola Ci resta solo la guerra. Ovunque guardiamo vedremo una guerra per la terra. Il potere infatti è la terra. Loro lo sanno ed è per questo che ci perseguitano. Abbiamo solo il nostro corpo, il nostro coraggio e pochi territori per vivere con dignità. Questo è ciò chi prepara alla battaglia. E ci prepara alla battaglia. Questa è una lotta più importante per i popoli amazzoniche del Brasile. Ma in questi una seconda lotta molto importante è la minga indigena negra e popolare che ha lasciato il cauca nel sud del paese della Colombia nel novembre dello scorso anno ed è arrivato una settimana dopo a Bogotà. Queste sono immagini della incredibile minga lavoro comunitario e lavoro collettivo negra, popolare e indigena. 8000 indigena sono arrivato a Bogotà in difesa della vita a causa delle continue violenze contro i popoli. Nei loro territori le popolazioni indigene mantengono in minga verso indietro. Questo è la guardia indigena senza armi per la difesa collettiva. Nella minga della guardia indigena partecipano giovani, bambini, anziani, tutta la comunità. La minga verso indietro con baratto, questa è una foto di un baratto, feste, arte, musica è un intercambio di valore di uso, non di merce. La persona arriva con alcuni frutti e si ritorna con altre questioni, con altre produzioni. da quando l'organizzazione ha deciso di affrontare la pandemia con la minga verso l'indietro, le colpure, i raccolti, il baratto hanno acquisito centralità nelle loro vite. Il baratto, parlano l'indigene, è un'alternativa politica per questi tempi, baratto tra prodotti di climi diversi, con punti di incontro e scambio, dove predomina il bisogno, non il valore. Noi scambiamo senza un'equivalenza di valori, ma ciò di cui ognuno ha bisogno. Questo per noi è molto interessante perché è una forma di relazione non capitalista. durante la pandemia i popoli ingigeni sono in la prima fila nella lotta per l'autonomia, la vita contro l'estrativismo e contro il capitalismo. Un caso è il governo territoriale autonomo della nazione Guampis, è un piccolo popolo di alcuni mille di abitanti, ma è una referenza per altri gruppi indigeni. In questo momento 12 popoli amazonici del Brasile andano in un processo di costruzione di autonomia. Il popolo è la nazione mapuce in lotta per l'autonomia nel sud di Cile ed Argentina. Per noi i popoli indigeni sono referenti politici e naturalmente un referente importante in questi momenti è la gira sapatista. Noi parliamo di gira sapatista quando parliamo di questa approssimazione dei sapatisti all'Europa. Ma voglio arrivare a un'altra situazione. Ora vorrei avvicinarmi alla rivolta colombiana la rivolta colombiana hanno cominciato il 28 di aprile il più grande movimento popolare di tutta l'America latina durante la pandemia. Questa è la importanza della lotta colombiana. Perché è la lotta più importante? Perché è una lotta che ha cominciato il 28 aprile con un sciopero deciso dalle centrali sindacali ma i giovani hanno cambiato completamente modificato questa convocatoria io io voglio a compartire una una scena interessante si vede e voglio esplicare di che cosa parliamo come era successo nell'ottobre nel novembre del 2019 la popolazione più giovani è entrata in sciopero con grandi manifestazioni superando l'appelo che prevedeva uno stop solo di 24 ore i giovani che non hanno futuro in una società estrativista con un governo di estrema destra come il governo colombiano che uccide centinaia di persone nel campo e nella città sanno che la repressione è pronta ad agire in qualsiasi momento le manifestazioni si sono svolte in tutta la colombia in tutte le città noi parliamo di milioni di persone in manifestazione in lotta durante due mesi 60 giorni nella colombia ma la cosa più importante è che sono state create due forme completamente nuove di azione una è la prima linea è una forma di autodifessa collettiva per agire collettivamente nella cura delle persone che sono per la strada in generale le prime linee sono costitute da giovani uomini e donne che usano gli scudi per la loro difesa individuale e collettiva ma c'erano in prima linea di madri di mammas di sacerdoti della religione cattolica e di altri settori che hanno deciso che era necessario difendersi collettivamente dalla brutalità delle squadre immobile della polizia militare noi parliamo di 400 desaparecidos in questi due mesi e di 70 o 80 assassinati il secondo non erano questa video che voi sta mirando i punti di resistenza si tratta di grandi spazi urbane come piazza o confluenze di viali che sono stati occupati stabilmente per due o tre mesi per centinaia di persone questo era importante perché in questo spazio esiste la biblioteca la cucina un spazio per andare per il gioco per la musica per il teatro per mangiare cucina collettiva in questa in questo ponte di resistenza era una vita collettiva completamente nuova dove i giovani tifosi di diversi squadri confraternizzano e dove le donne del quartiere apre la porta per giovani che non conoscono alcuni di questi giovani hanno stato nella prigione sono delinquenti ma la cosa più interessante è che i ponti di resistenza in Cali Cali è una città di popolazione negra di popolazione afro ha costruito 25 ponti di resistenza che è un punto di resistenza è uno spazio liberato con barricate che non può entrare qualunque ma con la autodifessa collettiva un caso molto interessante è che la guardia indigena ha arrivato a Cali 5.000 guardie per aiutare per solidarietà con questi ponti di resistenza perché la brutalità della polizia e di alcuni vicini armati dei barri privati era molto molto violenta questa costruzione è un monumento noi parliamo di un antimonumento che si chiama resiste che è un pugno un pugno un pugno il monumento è di 10 metri 12 metri di altura con un pugno la parte superiore e il pugno è qui il pugno il pugno è qui è un cuore anche le persone parlano questo è un pugno ma è anche un cuore questo è molto interessante per noi ma in questi monumento ha lavorato tutta la comunità è creato in 10 nuove giorni di lavoro e i colori la pintura è anche una creazione collettiva questi sono gli studi che utilizzano la prima linea per la difessa e la pintura è realizzata per molti persone non è una opera individuale come i monumenti tradizionali della nostra città ma è una opera comunitaria un lavoro comunitario una creazione comunitaria e per me la conclusione di questa idea è che la lotta urbana Colombia è un paese tradizionale di lotta dei contadini della lotta rurale ma questo è un momento nuovo nella Colombia della lotta urbana che ha creato comunità che ha creato relazione sociale di solidarietà nuova ha creato comunità è una dopo forma di lotta resistere per una parte e anche creare questa è una creazione come la biblioteca come il spazio per lo pranzo collettivo come lo spazio per la sanità perché nelle punte di resistenza esistono spazio per la sanità per attendere alle ferite per la polizia che sono molti questo è il retrato dei assassinati per la polizia in questi anti monumento che è una meravigliosa creazione collettiva la capacità dei popoli in movimento non solo di resistere ma anche di creare di creare lo nuovo è in questo momento una caratteristica molto importante dei movimenti sociali nell'america latina noi parliamo per questo di una di popoli in movimento non di movimento sociale di popoli in movimento e non è la esattamente la messa questione un movimento sociale è la domanda allo stato ma un popolo in movimento è la autoconstruzione di un mondo nuovo perché perché nel mondo dello stato e dello capitale non ha futuro per noi costruire educazione costruire spazi per noi pranzo salute tutte le forme di vita è una questione molto importante per la sopravvivenza collettiva bene questa è la mia idea principale di compartire con voi perché credo che durante la pandemia la lotta è forte è molto forte in alcuni paesi la situazione non è buona ed è difesa stiamo vivendo una guerra contro i popoli dopo parleremo di questo ma è importante credere o affirmare l'idea di che durante la pandemia sulla pandemia è possibile la lotta la resistenza anche la creazione del mondo nuovo tanti grazie 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 Raul poi torneremo chiaramente su alcuni temi con te apprezziamo tantissimo anche il fatto che sia preparato in italiano cosa che per rendere più fluido chiaramente tutta la conferenza è uno sforzo che apprezziamo moltissimo passiamo a Cristina Morini che è giornalista cercatrice collabora con moltissimi giornali in particolare è coordinatrice di Effimera che è un centro di cerca sociale con uno sguardo di genere su questo che insomma cercheremo un po' di affrontare adesso sapendo che la pandemia ha rovesciato gran parte delle fragilità proprio sulle donne ci sono le donne specialmente le donne migranti le donne più povere che hanno un po' quelle precarie anche impiegate i lavori pesanti hanno un po' tenuto il peso di questa situazione permettendo anche di fare il lockdown come se a delle persone che se lo sono potuto permettere come se il lockdown fosse effettivamente qualcosa un privilegio pensiamo a chi ha fatto il lockdown anche in casa in campagna con il giardino mentre altri erano costretti a lavorare spesso le donne e si è parlato anche appunto che il razzismo si è combinato proprio con la questione del genere qual è la tua lettura appunto con data la tua diciamo approfondimenti e i tuoi studi allora grazie dell'invito grazie Enzo della parola sono molto contenta di essere in questo contesto e di avere la possibilità tra l'altro di interloquire con una personalità come quella di Raul Zibeci che leggo costantemente credo come tanti di voi proprio anche sul sito di comune.info i suoi articoli ci hanno dato delle chiavi di lettura molto importanti anche in questa dimensione della pandemia io vi tradurrò per forza in un contesto diverso che è il contesto soprattutto italiano occidentale con le contraddizioni che ha portato con sé e di conseguenza anche il primo degli obiettivi che mi ponevo nel proporvi alcune riflessioni era quello di mettere un po' in discussione il termine cura che mi è carissimo mettere in discussione un termine carissimo che io insomma sono dieci anni che ci lavoro e non solo io evidentemente ci lavoro a partire da un retroterra che è incredibile e tuttavia l'ho visto un po' stiracchiato in questo periodo da tutte le parti pensate soltanto al fatto che tutte le varie direttive non direttive decisioni non decisioni di una politica che è stata sì certamente molto poco attenta alla cura e ha evidentemente dentro determinate scelte fatte finito per approfondire delle problematiche pensate soltanto alla scuola chiusa e quindi tutto ciò che ha voluto dire da un punto di vista delle diseguaglianze ha chiamato per un certo periodo tutto questo pannello di questioni come cura Italia e allora lì mi sono detta beh però le donne l'hanno interpretato sempre diversamente cioè ha un potenziale di rottura di trasformazione di rivoluzione del mondo grandissimo il termine cura così come l'abbiamo interpretato noi come l'hanno interpretato i femminismi come l'hanno interpretato molte teoriche e tuttavia erano anche consapevoli dei crinali scivolosi che diciamo questo termine portava con sé se da un lato si parlava della città femmina di Ida Farè che metteva in luce la necessità di una rimodulazione degli spazi di tempi di figure appunto nelle città i bambini gli anziani sono figure da rimuovere evidentemente che non sono mai centrali nelle politiche sociali perché non sono centrali dentro le politiche economiche e dunque l'idea di un disegno di un ambiente che fosse più a misura degli esseri umani opposto ad un mondo costruito su modelli eteropatriarcali e capitalisti dall'altro lato però il rifiuto della cura è stato anche determinante per il femminismo e per le donne quindi questa cosa noi la dobbiamo sempre tenere presente molte lotte degli anni 70 si sono avute proprio perché si vedesse Enzo lo accennava prima come il carico della cura e la sua contemporanea svalutazione non veniva tenuta in nessun conto nell'agenda politica di movimenti sindacati e come ci ha spiegato anni fa Joan Tronto il lavoro di cura era storicamente svolto dai subordinati appunto gli schiavi i servi le donne e le donne delle classi più povere perché evidentemente le più benestanti appaltavano il lavoro di cura altrove dunque come evidentemente diceva Enzo nell'introdurre queste mie riflessioni il tema di classe è fortemente connesso alla questione della cura perché la maggior parte dei lavori di cura io sto facendo evidentemente una fotografia di quello che vediamo intorno a noi continua ad essere svolto dai ranghi inferiori della società donne e uomini di colore e donne bianche di ranghi inferiori e da lì si è parlato anche di catene della cura un termine che ricorderete bene donne migranti che evidentemente venivano costrette a lasciare i propri paesi di origine i propri figli per occuparsi dei figli delle donne piagiate per consentire loro di essere inserite all'interno del mercato del lavoro questo lo sto dicendo per cercare di disegnare alcuni processi non è nell'oggi forse che ci ritroviamo a questo immediato problema ce ne siamo trovati altri che hanno a che vedere con esso bisogna insomma ricordare che il lavoro inestimabile del prendersi cura genera non solo sentimenti positivi tra le donne e bisogna prestare attenzione a che non si faccia un uso strumentale del concetto di cura dell'affetto affetto che per fortuna ci lega agli altri ma ci arriverò evidentemente ma il lavoro domestico è potuto diventare un luogo politico perché si è trovato argomentato nell'ambito di un conflitto sull'attitudine femminile presunta naturale verso la cura verso chi aveva intorno e la comunità certamente ma la comunità come evidentemente ci stava raccontando Raul Zibeci nel farci tutta una serie di esempi molto interessanti che ci danno delle fotografie e degli spunti proprio delle posture anche dei modelli dei paradigmi che possono essere anche estremamente soggettivi però questo problema della comunità è un problema di tutte e di tutti non solo delle donne quindi attenzione a declinarle in modo tale che sia il complesso delle strutture appunto e non il singolo o soprattutto la singola a dover interpretare la parte della persona carans cioè del curante perché altrimenti si generano evidentemente delle perplessità che mi si sono generate anche a me quando leggevo talune cose e quando vedevo appunto strattonata questa parola un po' da tutte le parti queste questioni guardate tirano in mezzo le donne ma per esempio mi è venuto da dire tirano in mezzo anche i lavoratori degli ospedali gli operatori sociali i lavoratori dei servizi alla persona tutte persone curanti dove l'elemento dell'affetto del legame con quello che fanno diventa dirimente diventa dirimente al punto tale che questo lavoro tu lo fai appunto dentro una dimensione di obblattività quasi quasi dimentico di te del tempo che ci impieghi perché di fatto c'è altro c'è altro ed evidentemente c'è altro così come evidentemente si è parlato di eroi eroi sono state queste figure in moltissimi case e alla fine invisibili e appunto anche in questo caso come dicevo per quanto riguarda le donne si fa leva sulla missione sull'obblattività sull'amore però evidentemente non si può consentire che si faccia del buon cuore del volontarismo una strategia politica di governo per gli stati appunto usare le donne o il personale precario delle cooperative dedicate alle professioni sanitarie si è tradotto in un risparmio immenso quindi ai fini del profitto le donne sono state anche in passato ma anche in questa drammatica dimensione che abbiamo vissuto stiamo vivendo da un anno e mezzo questa parte essenziali nelle case dato un sistema di welfare familiare che fa da sfondo in Italia questo da sempre e a me è parso un arretramento preoccupante da certi punti di vista per cui in prima istanza ricordiamoci che insomma come dicevo la cura il concetto di cura ha con sé questo potenziale trasformativo rivoluzionario divisione di un mondo diverso però non siamo disposti a riparare ciò che gli altri hanno rotto noi vogliamo che cambi l'approccio distruttivo e violento e profondamente gerarchico e maschilista e diseguale che ci ha portato fin qui e quindi come dire la cura non è da questo punto di vista un concetto molle che fa solo affidamento sul fatto che siamo naturalmente portati e lo siamo e lo siamo certamente perché appunto a proposito di interdipendenze e di vulnerabilità la pandemia ci ha posto finalmente di fronte alla questione della vulnerabilità e dell'interdipendenza ci ha posto di fronte ad una politica che non teneva in nessun conto un'etica della cura così come insomma tra passaggi che sono un po' un po' veloci però ho cercato di disegnare un'etica della cura e di processi sindemici che colpivano più fortemente coloro che già la società tendeva a mettere ai margini quindi le donne gli immigrati le persone con minor mezzi economici quelli che appunto il lockdown hanno dovuto fare dentro le case dentro case non comode piccole senza magari avere la possibilità di avere ricorso a più computer il lavoro si faceva per qualcuno in smart working altri hanno dovuto comunque continuare a lavorare ammalandosi dentro il lavoro però anche la questione dello smart working ha generato delle problematiche molto evidente perché magari appunto la casa non era sufficientemente grande per consentire a più soggetti dentro una casa la casa poi non è l'ambito dove si dovrebbe svolgere un lavoro insomma le problematiche sono tante anche se alcuni si sono trovati anche comodi nel lavorare da casa ma insomma adesso non voglio disperdermi troppo però insomma tanti in una casa pochi magari mezzi e le complicanze del caso e quindi è chiaro che pensando la società della cura il mio richiamo è a cure ribelli a comunità ribelli come quelle che ci stava fondamentalmente illustrando Raul Zibeci capace appunto di creare una dimensione comunitaria dove le varie parti della comunità si prendono carico collettivamente di determinati compiti un immaginario di lotta molto distante da quello che può essere associato alla cura che in alcuni casi rimanda appunto ad una passività di chi riceve cure alla pazienza e alla dedizione di chi la presta e tutto questo dentro una politica sempre più fondata su processi di selezione ed emarginazioni su diseguaglianze che appunto si sono rese manifeste chi non era essenziale per la produzione può essere lasciato indietro i vaccini non sono affatto per tutti i bambini stiano senza scuola chiusi in casa la loro crescente ignoranza forse li renderà dei lavoratori più docili mi dico pensate anche ai migranti candestini i quali forse si vaccinerebbero volentieri potendo ottenere contemporaneamente un'assistenza sanitaria pubblica più trasparente di quella di cui godono oggi e dunque va senza dubbio argomentata la necessità collettiva politica di un recupero della centralità del concetto di cura fuori dalla logica della produttività e della sovranità che va viceversa smantellata va messa al suo posto la nozione infinitamente più sensibile di dipendenza come elemento ineliminabile della condizione umana Marta si è molto occupata della disabilità pensando alla cura e quindi voi pensate anche qua no le persone disabili come vengono considerate dalla macchina del capitale sono nulla oppure magari vengono piegate a determinate logiche di profitto e quindi è molto importante cercare di declinare in modo differente il concetto di lavoro e di utilità della persona il valore d'uso ci richiamava a recuperare Raul Zibici e quindi mentre nel modello di produzione capitalistico noi vediamo agire anche un progressivo processo di normalizzazione e di depostenziamento delle differenze mentre l'attività umana andrebbe considerata nella sua essenza e sostanza sempre differente e non solo a partire dal punto di vista del capitale e dell'efficienza di chi è utile e di chi è disutile del abile e del disabile del essenziale e di quello che invece è inessenziale la vita non essenziale a un certo punto mi è venuto da dire perché tutte le attività sociali erano chiuse e invece la produzione andava avanti come un treno i magazzini di Amazon aperti 24 ore al giorno insomma io adesso non voglio farla troppo lunga perché insomma mi piacerebbe anche un po' interloquire con Raul Zibici che abbiamo la possibilità di questo di questo appunto di questo contatto però un'altra cosa voglio aggiungere attenzione a questa eccessiva responsabilizzazione dell'individuo separato da un contesto sociale che ancora una volta lo espone sempre di più alla possibilità di nuove forme di inclusione ed esclusione senza alcuna forma di mediazione collettiva e quindi credo che vada tenuto in conto la cornice di uno stato sociale di servizi essenziali che debbono essere universali e di un sostegno finanziario adeguato alle medesime e che evidentemente tutto questo non possa essere messo in discussione e sono convinta che qui lo sappiamo tutti benissimo ma penso anche che questa sia una battaglia da fare da qui in poi anche consapevoli di quanto ci è costato anche in termini di vite il taglio appunto al welfare il taglio ai servizi soltari il taglio alla sanità ci siamo ritrovati in questa situazione forse come dire già predisposti perché questo tipo di modello sussidiario io vivo in Lombardia e come dire lì è stata un po' l'apoteosi di questo tipo di paradigma figuratevi recuperavo o mi è recapitato tra le mani un testo del collettivo femminista Medea di Torino sul libro bianco di Sacconi di dieci anni fa ebbene in questo libro si parlava già di un universalismo selettivo dove la famiglia e dunque ancora una volta le donne e il terzo settore sarebbero stati gli attori che venivano richiamati perché portassero avanti la promozione della salute e dei servizi sociosanitari in larga parte in sostituzione dell'intervento pubblico quindi a proposito di sussidiarietà potremmo citare appunto poi anche la riforma Formigoni appunto in Lombardia così da un certo punto di vista se non prestiamo attenzione la cura rischia di diventare un po' l'altra faccia della guerra ho detto a un certo punto provocatoriamente no? Mentre si combatte la guerra al virus le donne stiano a casa ad aiutare a modo loro lo Stato nella battaglia no? pensate un po' agli immaginari guerreschi che si sono mossi nel corso di questo periodo e pensate a De Luca che faceva delle ironie sulla mammina che voleva la scuola aperta ecco non so no? quindi questo codice è evidentemente affiorato nell'emergenza no? ed è fondamentale che noi ci sia capaci di riconoscersi all'interno di un ecosistema desideroso di risignificare il rapporto col vivente no? disegnando una società differente no? e di vederla schiettamente come una condizione questo processo di cura no? nel senso di requisito di una situazione di un presupposto necessario a un determinato scopo collettivo no? che ci tira in mezzo tutti senza pretendere di legarla no? a sentimenti femminili che appunto sono stati culturalmente e storicamente imposti perché appunto la pandemia ha ahimè messo in luce la persistenza di una divisione dei compiti che ancora largamente vede le donne a casa e gli uomini invece sul lavoro no? le donne in Italia in questo periodo hanno pagato un prezzo altissimo con espulsioni da un lavoro già precario no? quindi funzionale a sopperire ai vuoti generati dalla chiusura delle scuole e quindi alla necessità di essere nella cura a proposito degli esempi che faceva Raul Zibeci ecco e a proposito del fatto che noi dobbiamo aprirci alla possibilità di pensare con cura ecco io credo che anche anche nei nostri territori anche tra di noi noi abbiamo moltissime esperienze o perlomeno le avevamo adesso non so come stiano dopo la pandemia dopo questi anni di pandemia qualche difficoltà c'è stata ma moltissime esperienze io sono stata due anni fa a questo festival dell'Oltre Economia presentando le mappature fatte dal progetto Common Fair che si fondava proprio sull'idea di mettere insieme no? tutte le realtà sociali auto-organizzate legate a bisogni sociali di vari ambiti educazione socialità cultura salute abitare anche lavoro no? e analizzando la crescita di queste comunità no? anche all'interno di forme di coalizione di mutualismo autoregolata che abbiamo visto anche agire ancora pure nelle difficoltà durante questi due anni di pandemia no? e quindi abbiamo visto concretamente abbiamo mappato come si concepisce si dà vita e si cura ciò che appunto è sottoturizzato o manca attivando appunto dei cicli rigenerativi no? che sono sia degli spazi che delle persone stesse ecco ed evidentemente ecco proprio con la ricerca Common Fair ci siamo ritrovati a doverci confrontare con due problemi che queste realtà mettevano in luce un problema del tempo e un problema dei finanziamenti e qui arrivo all'ultimo punto che voglio consegnarvi che è quello del reddito perché evidentemente oltre alla difesa come dicevo di uno stato sociale che sia degno di questo nome che sia universalistico che sia più attento alle problematiche che si possono scatenare in un mondo che da un momento all'altro ci ha messo di fronte ad un problema così immenso come questa pandemia e alle diseguaglianze cioè calcolate che la metà del mondo noi forse ce ne siamo accorti tanto perché questa volta questo virus ha colpito di più l'Occidente no non è Ebola che era lontano da noi ma nel frattempo tutto il resto del mondo ai vaccini non ha ricorso fuori dall'Occidente e anche questo è un problema che ci deve far pensare evidentemente a delle strutture di sostegno che siano per questo mondo e per altri mondi possibili ma dicevo reddito reddito anche come altro strumento oltre al sostegno evidentemente di un'agenda politica che tenga al centro la questione dell'uelfar anche la questione del reddito reddito di base un reddito di autodeterminazione del vivente sia in termini soggettivi che collettivi in qualche maniera quindi le forme di auto-organizzazione alternativa di autogoverno così come appunto le singole individualità possono trovare in questo strumento del reddito di base che è stato chiamato appunto dalle femministe di non una di meno anche reddito di autodeterminazione un appiglio che consente delle scelte di libertà e quindi anche questa è una politica rivoluzionaria della sostenibilità dove riconoscere innanzitutto le dimensioni plurali del lavoro e forme di distribuzione alternative tutto questo forse ci porta ad immaginare come dice Pascal Molinier un'etica dei subalterni ecco forse è un po' questo liberare il ventunesimo secolo pensando appunto veramente di immaginare un mondo nuovo di ribaltarlo di prenderci insieme cura del mondo e di ritrovare appunto dentro quest'etica dei subalterni di coloro che hanno questo senso della cura e che però può diventare appunto un segnale un indirizzo un vettore verso il quale andare tutti collettivamente grazie mille sì infatti proprio quello che è stato detto anche ieri è che forse non a sufficienza ci siamo presi dei momenti di riflessione come questo in cui i corpi sono più vicini e si riesce anche a elaborare quello che è successo perché probabilmente siamo ancora in una fase di lutto e ancora non siamo stati in grado di forse anche politicamente di dare una nostra soluzione unitaria ai tanti problemi che in questo momento ci stanno appesantendo diciamo ci stanno colpendo però vedo Raul perché magari Cristina voleva fare una domanda a Raul che comunque è un profondo conoscitore un analista anche dell'universo femminile quindi se lui ritorna bene perché ci avrei anche una domanda un po' spinosa sì eccoci sì c'è Cristina che ti voleva fare una domanda Raul sì 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 Raul ci senti devo dire che parte della descrizione delle esperienze che hai fatto forse mi ha già un po' spiegato delle cose rispetto a un interrogativo che avendo la possibilità di parlare con te mi attraversava e che riguardava il tema del potere dell'organizzazione è un tema grandissimo complesso però tu ci hai riflettuto molto proprio anche a partire dalle esperienze di ciò che si è svolto in Sud America in Latino America quindi le esperienze di governo anche da parte di forze di sinistra e un po' le contraddizioni anche che si sono generate quindi questo tema della rappresentanza e della sinistra e d'altro lato appunto viceversa come riuscire a declinare in una situazione così complessa come quella nella quale ci troviamo la possibilità di trovare una forma appunto di organizzazione alternativa forse alle esperienze che abbiamo visto anche un po' declinanti tu dicevi utilizzando parole che vengono dagli zapatisti non è più il tempo di camminare camminare domandando che una frase che c'è rimasta cara a tutto ma è il tempo di galoppare come possiamo galoppare e come evidentemente a proposito di direttrici trovare una direzione che ci consenta di ricostruire un noi detto che appunto il tema dell'organizzazione del potere della rappresentanza è un po' complicato anche quando declinato a sinistra nel presente grazie cristina io parlo dell'america latina in america latina stiamo vivendo una guerra contro i popoli questo è il primo la prima considerazione quelli popoli tutti nelle zone rurali anche nella città è un attacco diretto contro la vita contro i territori anche contro i quartieri popolari della città perché siamo in un processo di costruzione di narco stato lo stato è cambiato siamo in un periodo dove i gruppi paramilitari creato per lo stato con alianza con il narco siano la sostituzione dello stato in parte importante della realità in messico in centro america in colombia in brasile la tendenza principale è andare per un narco stato narco paramilitare in questa situazione dobbiamo capire che quelle che prima erano società integrate più o meno integrate ora sono società in cui una parte della popolazione rimane deve essere controllata con le armi o sterminata perché perché lo strativismo lascia per fuori della vita della riproduzione normale normale a una parte probabilmente circa la metà della popolazione in alcuni paesi l'unica possibilità per costruire un noi e farlo in difesa della vita in resistenza alla politica di morte del capitale e dello stato questo è quello che stanno facendo nelle città nella colombia in cilio in ecuador ma per costruire un noi bisogna fuggire dalla istituzione dallo stato dalla rappresentanza nell'america latina questo non è una linea politica per tutto il mondo fuggire dell'istituzione dello stato dalla rappresentanza perché perché lo stato è un instrumento di morte l'unica relazione con lo stato delle giovani decali è con la polizia che attua come gruppo d'esterminio la seconda questione che le parole chiave sono per noi resistenza comunità e creazione dello nuovo questo è il la storia dei movimenti indigeni ma anche dei movimenti femministi perché perché le donne fa costruire gruppi di donne perché è la forma di avere sicurità di avere confidenza con gli altri e di sopravvivere come come collettivo è la creazione dello nuovo è creazione di gruppi comunitari dobbiamo imparare da quello che stanno facendo i popoli indigeni afro e le donne per sopravvivere la soluzione non verranno da specialisti da accademici ma dell'azione collettiva e questo è lo normale una delle chiavi è non dipendere non dipendere da nessuno ma dalle forze stesse anche se sono poche o sembrano insignificanti pochi ma forte devo dire che negli spazi dei movimenti nell'America Latina c'è maschismo maschismo e patriarcato e questo è una una questione importantissima perché perché una parte del lavoro di costruzione è un lavoro indietro la cosa interessante è che in alcuni casi in alcuni questi problemi del patriarcato della violenza contro le donne si risolvono si risolvono attraverso il dialogo non con confrontazione più violenta in alcuni casi non c'è altra soluzione che separare l'aggressore in modo che la comunità la comunità continui a esistere ma questo è importante perché se l'aggressore è denunziato alla polizia questo non è soluzione per noi la comunità deve lavorare la soluzione delle contraddizioni dei bambini e delle persone anziane di uomini e donne tutte le contraddizioni dobbiamo soluzionare entro noi questo è parte del cammino per cambiare il mondo penso finalmente che i cambiamenti della società del mondo verranno da ciò che chiamiamo margini come succedeva durante la lotta operaia degli anni 60 e 70 dove il ruolo centrale non era dei partiti o dei sindicati ma dei lavoratori senza specializzazione del semplice lavoratori ora i cambiamenti arriveranno anche dal basso dell'allianza tra i poveri della città del campo della zona rurale gli esclusi i carcirati e le violati le persone che stanno in situazione più o peggiore la situazione con maggiore difficoltà la la soluzione non arriverà del centro e del mezzo e dell'alto so dei margini grazie grazie